Ci troviamo davanti al pronto soccorso dell'ospedale veneziale di Sernia dove questa brutta vicenda ha avuto inizio. Sono ancora tutte da chiarire le cause e le circostanze che hanno portato alla morte di Pasquale Cifelli, 76enne originario di Castelpetroso, che nella serata di ieri è deceduto su un marciapiede di via Sant'Ippolito a poche centinaia di metri dall'ospedale di Sernia, uscito poco prima dal pronto soccorso del veneziale e in attesa di un'ambulanza proveniente da Venafro perché quella del 118 di Sernia era impegnata in un altro codice rosso, l'uomo non ce l'ha fatta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 76enne si è regato al pronto soccorso di Sernia accompagnato dalla figlia dove è stato ricoverato intorno alle 15 per dei problemi respiratori. Sottoposto ad accertamenti e ricevute le prime cure, i parenti intanto attendevano notizie sulle sue condizioni fuori dal reparto. Poi il mistero in serata, mentre la famiglia ancora aspettava le sue dimissioni davanti all'ingresso del pronto soccorso, l'uomo era riverso a terra su un marciapiede a poche centinaia di metri di distanza. Tante le domande ancora senza risposta, la prima e forse la più importante, come ha fatto Pasquale Cifelli ad uscire dal reparto senza che nessuno se ne accorgesse. Sarà la procura di Sernia a stabilire se ci siano o meno responsabilità. Intanto l'avvocato della famiglia Elena Bertoni ha provveduto a sporgere denunce in questura per capire cosa sia realmente accaduto in quelle ore concitate. Sequestrata tutta la documentazione sanitaria, la salma al momento è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ci troviamo davanti all'obitorio dell'ospedale veneziale di Sernia dove c'è la salma del signor Cifelli, l'uomo che nella serata di ieri è deceduto proprio qui vicino a cento metri o poco più dall'ospedale veneziale dopo essere uscito dal pronto soccorso. Abbiamo provato a chiedere informazioni qui all'obitorio ma ovviamente la salma è a disposizione del magistrato di turno che sta decidendo sull'autopsia. Il 76enne dopo essersi accasciato a terra è stato soccorso da prima da alcuni passanti tra cui un'infermiera fuori servizio, poi dalla guardia medica giunta dal centro storico e poi da alcuni agenti della polizia. In ultimo l'arrivo dell'ambulanza da Venafro quando l'uomo però era già privo di vita. Alcuni testimoni che hanno assistito alla scena si sono regati anche al pronto soccorso in cerca d'aiuto ma né medici né paramedici sono autorizzati ad allontanarsi dal reparto. Ed è proprio qui in questo punto esatto che ieri sera si è consumata la tragedia dinanzi a tanti passanti che hanno provato inutilmente a soccorrere l'uomo prima che arrivasse la guardia medica, la polizia e dopo 40 minuti anche un'ambulanza proveniente da Venafro. Come potete vedere la distanza dall'ospedale veneziale è davvero minima. Lì giù c'è l'ospedale di Sernia.